È attiva da qualche mese l'Associazione Croce Bianca Gubbio. Presidente, qual è la missione e quali gli obiettivi che sono alla base della nascita e della costituzione di questa associazione? Sì, l'Associazione Croce Bianca Città di Gubbio è sorta a febbraio e gli obiettivi sono per dare una risposta alle esigenze sul territorio per le famiglie che hanno più necessità e hanno delle difficoltà sempre più oggettive. Cerchiamo di interagire con le amministrazioni pubbliche, tra cui l'amministrazione comunale sì, cerchiamo di poter in questo momento sopravvivere con i nostri sforzi però è chiaro che se qualcuno ci può venire incontro sarebbe cosa non gradita ma di più. Naturalmente l'appello è rivolto a tutte, il Vice Presidente chiediamo quali servizi può offrire questa associazione neonata? Il primo servizio fondamentale è un servizio in ambulanza per quelle persone che necessitano da casa per andare a fare visite, per andare a fare qualsiasi tipo di esami e quindi abbiamo a disposizione un'ambulanza molto ben attrezzata che fra l'altro i nostri cittadini potranno vederci all'opera anche il giorno dei ceri saremo presenti insieme alle altre associazioni del territorio e poi abbiamo un mezzo per disabili, quindi significa un mezzo per trasportare persone disabili quindi con problemi motori, anche questo sempre per quello che concerne le loro esigenze e poi quelle piccole cose che necessitano alla persona che magari si trova sola, si trova in difficoltà o che momentaneamente ha bisogno di un supporto generale Ecco, questo è quello che l'associazione si è prefissa e non ultima, come diceva il Presidente, sperando sulla collaborazione, sull'appoggio che gli enti pubblici, sia l'amministrazione comunale ma anche le ASL e i vari distretti saranno in grado di offrirci il nostro finale sarà quello di fare un'associazione che punta anche a creare qualche piccolo posto di lavoro Franco Monarchi, uno dei soci fondatori di questa associazione chiediamo, al di là del numero dei soci che hanno dato vita a questa associazione la voglia di dare il proprio contributo è mosso dal volontariato più assoluto Dal volontariato, anzi, è quello che stiamo facendo già noi tre e cerchiamo anche altra gente che vuole partecipare alla nostra associazione con spirito di volontariato ecco, non altro da aggiungere Finiamo con il Presidente, un appello, no? Questo a chiunque può dare il proprio contributo e un servizio che voi mettete a disposizione della collettività Diciamo che la missione nostra di fondo è quella di essere vicini a tutti Essere vicini a tutti significa impegnare energie essere volontari volontario che io definirei con un termine forse acconsentitemelo da buoni samaritani perché poi il volontario non è altro che qualcuno che sacrifica il suo tempo libero per dedicarlo agli altri e alle fasce Grazie Grazie Grazie